ho messo due batterie nuove quattro batterie nuove ricomincio si no 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 non va bene è un po po in troppo alta e qui sul giallo deve deve essere qui ne faccio un altro non 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 Grazie a tutti. Ecco, questo va bene e sul verde 133,83. Per un della mia età va benissimo. Grazie.